Bene amici, e questa sì che è una notizia ufficiale con doppio annuncio scritto e orale del presidentissimo Tridico, una vera rivoluzione, una grande vittoria che cambia tutto praticamente sin da subito per pensionati, lavoratori disoccupati, invalidi, percettori di bonus, insomma, in realtà per tutti. Quindi stanno per arrivare proprio 20 milioni di mail da IMSS, ma c'è da mettere una spunta online per beneficiare di questa rivoluzione appunto. Vi spiego tutto per bene dopo la sigla, voi prima mettete un bel like sulla fiducia e seguitemi con attenzione perché è importante. Sono Mr. Lul, partiamo! Insomma, Tridico la chiama rivoluzione e questa volta, almeno sulla carta, lo è davvero. Infatti arrivano i nuovi servizi proattivi IMSS che promettono di cambiare radicalmente tutto in materia di prestazioni, aumenti, pagamenti, adempimenti, scadenze, domande, bonus, eccetera. In pratica IMSS, grazie a questi nuovi servizi proattivi, avviserà singolarmente ogni singolo contribuente via mail, sms, app, io, ad esempio del diritto a presentare una domanda per un nuovo bonus, per una prestazione economica, per avere una maggiorazione sociale o un aumento della pensione tramite ricostituzione reddituale. Ci avviserà sempre IMSS delle scadenze e degli adempimenti per mantenere una prestazione già in essere. In pratica non esisteranno più i diritti inespressi oppure scadenze mancate. Ci arriverà una notifica sul telefono tipo Ehi Alessandro, guarda che devi rinnovare questa domanda, guarda che ti sta per scadere l'ISEE, Francesca, guarda che hai diritto alla NASPI, chiedila. Franco, perché non chiedi l'incremento al milione o il bonus 14esima o il bonus pinco pallino 150 euro che sei stato stagionale l'anno scorso? Insomma, non so se mi spiego. Una assistenza individuale che ci avvisa di tutto quello a cui possiamo, potremmo aver diritto, tutto quello che possiamo chiedere, tutte le scadenze senza fare nulla o quasi. Infatti una cosa bisogna farla e dovete farla subito. Bisogna attivare online questo servizio e autorizzare l'istituto ad avvisarci. Come? È facilissimo, accediamo all'area MyInps nella pagina Gestione Consensi e facciamo ZAC, adesione ai servizi proattivi. Sono comunque in arrivo, vi dicevo, 20 milioni di mail da Inps che ci spiegheranno nel dettaglio tutte le novità. Voi scattate ad attivare il servizio, mi raccomando, perché è davvero utilissimo. Fatemi sapere che cosa ne pensate e se la rassegna è stata utile e interessante, mi raccomando, un bel like. Vi saluto, alla prossima, un abbraccio da Mr. Lull.